Una lunga lettera a sancire, quantomeno per il momento, la fine dell'era Massimo Giove a Taranto. Il numero uno dei Rosso Blu lascia il timone della società, la squadra da lunedì sarà in autogestione. Cosa questo significhi non è specificato, ma una dinamica è certa. Il disimpegno è frutto di un rapporto ormai saturo tra Giove e il sindaco della città, Rinaldo Melucci, quest'ultimo duramente accusato dal presidente Rosso Blu relativamente alle presunte falle sulla questione stadio. L'inagibilità dell'impianto, a detta di Giove frutto di lavori approssimativi da parte dell'amministrazione riguardanti l'impianto, è soltanto il caso Sbelli, ma anche in precedenza il legame tra i due era tutt'altro che idilliaco. Il presidente Ionico è stato categorico elogiando i sindaci di Bari e Brindisi e rimprovera quindi a Melucci una scarsa, o meglio nulla, sensibilità all'argomento calcistico. Nessun interesse sul futuro strutturale del Taranto, visto che lo Iacovone, in vista dei giochi del Mediterraneo del 2026, sarà inutilizzabile per almeno due stagioni. E' come dimenticare lo screzio sui canoni da pagare per soffrire dell'impianto. Melucci qualche mese fa fu chiaro, tant'è che la licenza d'uso dello stadio, fondamentale per l'iscrizione del Taranto al campionato, fu concessa soltanto dopo il pagamento degli arretrati da parte del club di Giove. In sintesi, una bomba a orologeria scoppiata nella tarda serata di mercoledì e tra i riposi del Taranto adesso cresce la preoccupazione.